Ciao a tutti ragazzi e bentornati nel canale, io sono Sinsforia e finalmente torniamo di nuovo con dei contenuti, finalmente porto un'altra mod. Sono di nuovo sparito, sì lo so che voi ci avete fatto l'abitudine, vi chiedo sempre scusa, il lavoro prende tantissimo tempo, ma appena posso il mio pensiero siete voi ed eccomi qua. Tra l'altro vi volevo ringraziare con questa faccia qua praticamente in primo piano, bug appena entrato così, zac, tagliamo via i piedi. Vi volevo ringraziare perché ho visto che il canale sta crescendo, mi commentate spessissimo, vi percepisco, vi sento e questo per me è veramente un ringraziamento da parte vostra e io ringrazio voi invece che ci siete nonostante tutto. Continuate a scrivermi, commentate, non preoccupatevi se magari non vi rispondo subito, ma è nel mio interesse andare a rispondere ed avere cura di ognuno di voi e delle vostre esigenze, quindi ragazzi veramente grazie, grazie, grazie. Allora, eccoci qua, arriviamo a bomba, andiamo a parlare di una mod creata da Maya Game, una ragazza francese, la mod infatti nasce in francese ma ragazzi è stata tradotta da me. Ho una collaborazione con Maya Game, lei fino a poco tempo fa era soltanto una traduttrice ma adesso ha cominciato anche a fare alcune mod tra cui questa è la prima che vi mostro. Piano piano ve le porterò qui nel canale in modo da farvele conoscere perché sono veramente molto carine. Allora, la discussione, sì, ho fatto lo spoiler, la mod che andiamo a vedere oggi è appunto discussioni perché questa mod permette di far discutere i vari componenti della famiglia. Nel frattempo qui abbiamo anche un coniglietto di polvere. Ragazzi, ma io ho scaricato questo kit fantastico, li ho presi tutti e tre perché mi sono piaciuti subito, quindi li volevo prendere. Ma è normale che comunque nonostante io li faccia pulire, questi coniglietti sbucano due secondi dopo. È normale o è un bug? Hmm, sarà un bug? Lo scopriremo. Facciamoli mettere a sedere sul divano perché adesso questa famiglia si sfascerà leggermente. Mi dispiace per la famiglia Harris che ho conosciuto proprio oggi perché non l'avevo mai visto per essere così stata presa come esperimento sociale, ma se ne faranno una ragione. Dunque ragazzi, come dicevo, questa mod permette di creare delle dinamiche un po' così tese, un po' di tensione nelle famiglie. Noi qui, fatalità, poi questa famiglia è azzeccata perché c'è moglie, marito, figli piccoli, cioè o meglio figlio piccolo e figlio adolescente, e una suocera, anche comunque che si tiene in forma, si vede che ci tiene alla sua persona. Però ragazzi, sta suocera sta sempre dentro casa. Dopo un po', l'ospite puzza, ma mi sa che manco è un ospite, questa c'è io proprio qua dentro. Allora, che facciamo? Qua c'è questa donna che si chiama Faye. Faye decide a questo punto di parlare con Kletus. E nulla, e di che cosa dovrà parlare Faye con Kletus? Andiamo a vedere, clicchiamo su Kletus, ecco qua che si apre questo ventaglio, il classico ventaglio di possibilità. Tra l'altro, mettiamo una parentesi, ragazzi, per far funzionare queste mod, ma anche molte che vi presenterò in futuro, avremo bisogno di questo elemento che è l'XML. Questo è un file che semplicemente lo andrete a scaricare dal sito, ve lo metto qua sotto nell'info box, ragazzi, lo scaricate e lo andrete a mettere direttamente nella cartella mod, come se fosse proprio una mod. Anche se poi non ci faremo nulla, perché questo non lo andremo ad utilizzare, serve soltanto veramente come ingranaggio per far funzionare il tutto. Quello che ci interessa a noi, invece, in questo caso, è avvia una discussione. E quindi, ragazzi, clicchiamo qua e qui abbiamo varie possibilità. Possiamo discutere sull'adolescente, possiamo discutere... Ah, studia. Ricominciamo. Consegna. Ricominciamo. Ce la possiamo fare? Ci lasciate stare? Possiamo discutere sul bambino, possiamo discutere dei colleghi, possiamo discutere della coppia, possiamo discutere della suocera, che è quello che andremo ad utilizzare, oppure dei vicini di casa. E quindi, se vogliamo andare a discutere della suocera, è facile, torniamo indietro e dobbiamo parlare con la suocera, perché la mod ci indirizza verso la persona con la quale noi vogliamo aprire un conto. Quindi, qua possiamo decidere, a proposito delle sue visite, in questo caso... oppure circa le sue riflessioni sgradevoli, oppure insultare la suocera così a gratis, litigare con la suocera, riguardo alle sue domande, perché lo sappiamo, ragazzi, che le domande delle suocere sono un po' troppo impertinenti, riguardo i suoi consigli, riguardo le sue ricette, riguardo le sue telefonate, oppure direttamente, ragazzi, passiamo all'azione e schiaffeggiamo la suocera. Andiamo a vedere un pochino, andiamo a discutere, riguardo la cucina, perché questa qua cucina un po' troppo pesante per i gusti di faglie. Ecco qua che cominciano a battibeccare, perché la parmigiana che la signora... Andiamo a vedere come si chiama la signora? Francine! Ha cucinato e che si ostina a cucinare tutte le volte, e faglie proprio non la digerisce e non ce la fa più. Quindi discutiamo, diciamoglielo. Attenzione qua, perché vedete che è uscito un nuovo buff. La suocera cucina sempre bene, quindi non è che non gli andava bene la parmigiana tutte le sere. È un po' invidiosetta del modo di cucinare. E qua ci dice, ragione, li dico sulle ricette. La suocera di... Qua ragazzi, dobbiamo andare a modificare un attimino questo periodo qua, non perde occasione per mostrare le sue protezze in cucina. Che cosa non farebbe per ricevere i complimenti? Che fastidio! E quindi ragazzi, faglie, è un po' indispettita. Però, dato che la suocera non gliel'ha data vinta, continuiamo, continuiamo. Quindi avvia una discussione, sempre con la suocera. A questo punto ti insulto, perché se non mi dà soddisfazione, poi passo all'insulto. Nel frattempo il coniglio, là, della polvere salta. E qua esce, se lo è meritato, insulto alla suocera. Faglie non sopporta più l'atteggiamento e le riflessioni della suocera e lascia esplodere la sua rabbia. A parole. Ancora stiamo a parole. Lei, ragazzi, vediamo che non gliene può fregare meno, però vediamo che abbiamo un buff riferito alla discussione che c'è stata precedentemente sulla cucina. Perché sì, sono la vera chef, e allora, cos'è questa gelosia? Mettiti in cucina, seguimi i consigli, e diventerai come me. La gelosia non ti migliorerà. Ragazzi, questa suocera ce le sta togliendo dalle mani. Continuiamo a discutere con la suocera. Ormai me la sono legata al dito, proprio personalmente. Non so se si ha capito. E cominciamo a schiaffeggiarla. E vediamo un po' che succede. Il marito comincia ad accorgersi che c'è qualcosa che non va in questa casa. Ecco qua, ecco qua. La suocera, attenzione, Trionfante, uscire indenne da una baruffa intensa, dà molta fiducia in sé. Niente ragazzi, sta povera Faye non ce la fa. Lei ci ha preso le botte. Per coste subite, per la lotta. Subire una brutta batosta rende levemente stordito un sim. Ragazzi, mi sento un po' simpatizzante per Faye. Allora, vediamo a questo punto se lei può andare a sfogarsi con il marito. Quindi andiamo su Avvia una discussione, Andiamo sulla coppia e andiamo c'è proprio la voce a proposito della suocera. Comunque, ecco qua che comincia ad esserci un diviedo sul Faye. E lei cerca sostegno nel marito. Perché dice, non è possibile, aiutami tu, almeno è tua madre, parla con lei. Nel frattempo è uscito un altro buff emotivo dalla suocera. Esigo delle scuse, sono tua suocera e non mi parlerai in quel modo. Ti scuserai immediatamente. Poi Faye l'ha presa a schiaffi e lei dice, come hai usato? È inammissibile come comportamento. E qua ragazzi, si sta mettendo malino. Tra l'altro vedo che la suocera potrebbe far paura, è piena di piercing. Cominciamo a discutere con lui. Quindi andiamo su Avvia una conversazione. Andiamo sempre su Coppia. Se riguardo il Fiki Fiki, vediamo un po' che cosa esce su questo tipo di discussione. Insoddisfazione per discussione sul Fiki Fiki. Faye è insoddisfatta del Fiki Fiki con il marito. E glielo fa sapere. Vorrebbe che fosse più energico. Ma lui come l'avrà presa in tutto ciò? Andiamo a vedere. Non importa. È davvero una grande balla. Un altro pretesto per litigare. Niente ragazzi, questa Faye non se la sta per niente passando bene. Un aggiornamento molto importante che c'è stato di questa mod, che ora siamo alla versione 2, è che i bambini e gli adolescenti non possono in alcun modo avviare una discussione. E questo perché? Perché giustamente, diciamo che quando con il bambino andavamo all'inizio a cliccare su Avvia una discussione, racchiudeva anche la discussione sulla coppia, sulla suocera, e c'erano argomenti tipo il Fiki Fiki, che ragazzi, nella vita normale, ovviamente, un bambino non farebbe mai. Non è anche morale, insomma, è antietico. E così Maya per il momento ha deciso di togliere a bambini, ma anche ad adolescenti, la possibilità di avviare una discussione. Cosa che magari in futuro però verrà di nuovo reinserita con le dovute modifiche. Ma, alto là, perché in realtà noi da adulti possiamo andare a discutere con il bambino, eccolo qua, bambino e la suocera è svenuta nel frattempo, riguardo alla paghetta e in merito ai compiti per casa, a proposito di faccende domestiche, cosa che torna poi dall'altro utile con il nuovo kit, a proposito delle frequentazioni, a proposito dell'ordine in camera, dell'igiene, dei pasti, riguardo le bugie, sull'ora di andare a letto, e riguardo le note scolastiche. Ad esempio, andiamo un attimo ad mettere sull'attenti il nostro fanciullo Gideon riguardo alle note scolastiche, che prende un po' spesso ultimamente. Il tempo libero è vita, litigio per i voti scolastici. I voti, le note, è tutto ciò che conta, mentre divertirsi è molto più figo. Questo, ragazzi, ovviamente dal punto di vista di un bambino. Quindi, ragazzi, qua ci sono tantissimi motivi per poter litigare con i propri familiari. Motivi che vanno ad influire in maniera molto delicata sullo stato umorale dei nostri sim. In maniera molto delicata, lo dico, perché sempre in questo aggiornamento sono state, diciamo, rese meno sensibili queste liticate. Nella prima versione, succedeva che tu andavi a litigare con la suocera, e o tu che litigavi o la suocera praticamente rischiavate direttamente l'arresto cardiaco. E quindi Maya ha deciso di abbassare questi livelli per far sì che per una litigata non andavamo a perdere alcuni sim. Bene, ragazzi, questa qui era la mod di cui vi volevo parlare. La prima mod di altre che vedrete nei giorni prossimi di Maya Game, ma non soltanto, anche di altre modder tradotte in italiano, sempre per voi. Se non ricordo male i dati, questa mod contiene in tutto 58 interazioni nuove e 116 buff. Non vorrei sbagliare, ma comunque sono questi i dati. Potrei aver sbagliato di 1 o 2 unità, ma sono questi, ti ricordo benissimo, sono abbastanza sicuro. Vi lascio qua sotto tutti i riferimenti per poter scaricare. Fatemi sapere cosa ne pensate, se l'avete utilizzata. Conosco qualcuno che potrà utilizzarla per dare sfogo proprio alla repressione contro le suocere. Mi raccomando. Vi ringrazio per aver visto il video e noi ci vediamo per il prossimo gameplay. Ciao! Ciao!